In visita alla Capitineria di Porto il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale. L'ammiraglio Ispettore Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, nella giornata di ieri è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio Lopresti. L'ammiraglio ha fatto visita in occasione delle prossime festività al personale della Capitineria di Porto di Siracusa. Il Direttore Marittimo è stato accolto con entusiasmo dal personale civile e militare impiegato nei suddetti uffici al quale ha espresso il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato nell'asploitamento dei diversi compiti istituzionali, quei servizi che costituiscono l'immediata interfaccia dell'amministrazione nei confronti di tutti i cittadini e utenti che ad essa quotidianamente si rivolgono per tutte le istanze che interessano aspetti di stretta competenza del corpo, manifestando altresì la propria vicinanza a tutto il personale fortemente impegnato nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.